Siamo alla pagina sportiva, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, siamo a parlare di un personaggio che molti conoscono, Di Carmine, DC-10, altro gol per il Grifo. Di Carmine segna in finale play-off, il bonus promozione porta ai biancorossi 300.000 euro, l'attaccante ha reso felici in un colpo l'Ellas e la sua ex squadra con la rete decisiva. Intanto Daltar respinto il ricorso del Venezia, domani l'andata dei play-out. Andiamo a parlare di volley Superlega, la Sir festeggia la Coppa Italia entro il mese in programma due serate celebrative perché dicono il successo di Bologna vale doppio. Mondiale per club prende corpo la formula con finale secca in campo neutro. E poi la questione, la crisi del volley, il problema è legato ai palazzetti. Parla agli annuzzi di S. di Orvieto, un vero peccato, così si disperda un patrimonio cresciuto nel tempo. Sirci riconosce le difficoltà delle strutture sportive ma applaude alle decisioni di Spoleto e d'Orvieto, dice un atto di coraggio. Per il ciclismo all'ama il Memorial Adolfo e Franco Celestini, sfide da domani, giovanissimi e juniores. E poi basket di a due femminile, siamo ad Umbertide. Primo colpo per la PF Umbertide, alla corte di Contu arriva De Cassanna. Ancora per lo sport, in Serie C, fere, abbonamenti, boom, nel primo giorno di vendita libera, quasi triplicate le testere dello scorso anno, 4.764. E poi a Gubbio, Guidi ha firmato e sarà presentato Pannacci a Sassuolo. Giovedì a Gubbio, l'imprimator ufficiale per il DS, impegnato a seguire le finali del torneo primavera. Tra i vecchi sicuri di restare, Malaccari, De Silvestro, Davì e De Specie, per gli altri si attende il parere del tecnico. In Serie D, Foligno, si parte il 15 luglio, amichevole con Lascoli. E poi per il mercato, due colpi a Castello, Catacchini, Altiferno, Ceppo Domo, alla FC. Parla Bianchi ha deciso di sposare le nostre ambizioni, il bomber del Montone va alla corte di Ciarabelli. Per il tennis, Passaro vola al secondo turno del Roland Garot a Parigi. E poi per la promozione, Petrignano D'Assisi, Sbrinoschi ritorna dalla Germania. Petrignano, una professionalità importante. Ancora per il tennis, siamo a Foligno, al via l'European Junior Tour, oggi in campo tre teste di serie. Andiamo al messaggero, sorpresa Grifo, spunta dal canto imminente il colloquio a Fiano Romano con il tecnico in uscita dall'Arezzo. È il profilo che può sparire le carte, ma Oddo piace sia a Goretti che al presidente Santo Padre. Ieri contatto tra Grosso e il Verona, presto la rescissione. Roland Garos, Passaro riparte dal doppio. E poi per il mercato, la Val di Ceppo cerca i lunghi, Foligno ed Assisi, parliamo ovviamente di basket, prima confermare i big. Ancora dal messaggero, parliamo di volley, Sir Bernardi, vertice decisivo. Tante voci, nessuna ufficialità, un faccia a faccia in questi giorni potrebbe portare ad un chiarimento sul futuro del coach. Il mercato rimane fermo sulle indiscrezioni, manca l'ok per Russo e Plotnischi, speriamo di aver letto l'è. Bene, in bilico anche Tatt e Zukoski. Torniamo al calcio. Foligno, Colarieti in difesa può essere il primo colpo e in eccellenza la Ducato cerca un big in mediana. Per il ciclismo, GP Santomero, Pantalla d'Argento. Andiamo alla Nazione, il suo inserto sportivo. Grifo, Panchina, il nome nel weekend, nel fine settimana la società annuncerà il nuovo tecnico. Grosso ad un passo, Oddo a confronto. E poi i verdetti, Verona, Bainà, Venezia e Salernitana ai play-out. A Pian di Massiano, oltre 300 bimbi grifoni per un giorno, un'iniziativa del club. E poi per il volley, faccia a faccia Sirci Bernardi, incontro decisivo nel weekend. A Terni vanno benissimo gli abbonamenti per la Ternana. E poi ancora per il calcio, Luca Ubaldi a pro da Castel del Piano. Ancora calcio mercato in Serie D, siamo a Foligno, Colarieti sempre più vicino al Foligno. Per il tennis, sempre da Foligno, Europe Junior Tour, l'esordio Umbro. Ecco il fiatone al torneo internazionale, subito fuori, Lavoratori e la Gradassi. Queste le pagine sportive, pochi secondi per la copertina del nostro medio. Allora, la giornata odierna si apre con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio regionale, salvo in Appennino, dove la nuvolosità sarà più compatta. La giornata proseguirà con nuvolosità irregolare, qualche rischio di precipitazione che per lo più, precipitazioni saranno concentrate lungo i settori appenninici della regione. Nel corso del pomeriggio cieli ancora sereni, senza rischio di precipitazioni nel resto del territorio regionale, le temperature vanno tra i 9 e i 12 gradi le minime, salgono le massime tra 22 e 25. È tutto per questo appuntamento, grazie per averci seguito a voi. Una buona giornata. Grazie a tutti.